Buongiorno a tutti! 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 Comunque che bello il cammino acceso con... Così sta molto bene! Fa molto aria di autunno-inverno! Dove è Sofia? Dove è andata? Discuti delle tecniche di fitness? No vabbè, grazie! Sono qua anch'io! Grazie mille! Ok! Decanta le doti del partner! Dei consigli familiari! Conversazione profonda! Buongiorno a tutti! Vediamo! Altre scelte amichevole! Abbraccia affettuosamente! Che tenere! Poi facciamo scatto una foto insieme! Poi magari andiamo... Ah ma questo è Leonardo! Raccontano barzelletta sui marziani! Vediamo se riusciamo a recuperarlo! Ok, perfetto! Cosa ha Leo? Molto triste! Molto molto triste! E lottano! Fai un'imitazione! Facciamo altre scelte amichevole! Cerca di chiacchierare! Vediamo un attimo! È triste! Però loro due comunque non vanno d'accordo! Che è successo? Spintura no! Cerca di passare del tempo assieme! Vediamo se ce la facciamo! E trova un terreno comune! Va bene! Possiamo stare insieme per un po'! Meno male! Dai almeno con lui! Cerca di chiacchierare! Poi facciamo altre scelte! Buffo! Fai delle facce buffo! Fai un'imitazione! Fai un'imitazione! Dai! No! Ok! No! Stanno litigando di nuovo! Perché amichevole! Cerca di chiacchierare! Cerca di chiacchierare! Riproviamoci! Furente! Conversazione irritante! Sensazione di furo dopo una conversazione! Spiacevole! Stanchezza! Tommaso è stanco! Adesso vediamo se puoi riposare qua a casa sul divano magari! Fai un pisolino! Hai anche bisogno di andare in bagno! Tu sì! Hai bisogno di fare un pochettino di cose! Dai riposati un attimo qui! Aspettiamo ancora un attimino! Intanto poi dovremo andare alla fine dell'episodio a sistemare magari questa stanza oppure anche la camera di Sofia! Scusate per la mia voce tra l'altro ragazzi ma sono un po' raffreddata in questi giorni! Comunque direi che abbiamo dormito abbastanza! Vai in bagno un attimo! Ok! E poi esatto mangia! E poi direi che è ora di tornare a casa! Chiedi a Emily della sua giornata! Ok! Dai! Io direi Tommy! Prima di andare a casa però magari potremmo fare un po' di jogging! E bevi un succo energetico e poi facciamo... Vai a fare jogging e poi vai a casa! Ok! A questo punto direi vai a casa! Che è abbastanza tardi! Ed eccoci arrivati a casa! Direi innanzitutto di andare a dormire che sei abbastanza stanco quindi dormi! E invece vediamo che appunto è la gravidanza di Emily! Gravidanza terzo trimestre quindi non manca poi molto! Anche lei ha bisogno di dormire! Adesso è andata a dormire anche lei! No vabbè si è rotto... Si è rotto tutto qua in bagno! Si tutto! Doccia! Qualsiasi cosa! Bene! E poi bisogna di venire in bagno però non possiamo quindi sostituisci! E poi usa! Dai vieni vieni! No ma anche qua si è rotto tutto! No! No! Chiamo per un servizio di riparazione d'emergenza! Vediamo se viene qualcuno! Cioè si è rotta qualsiasi cosa in questa casa! Il microonde! Il gas! Il lavandino! Il frigorifero! In bagno si è rotto tutto! La televisione! Il computer! Vabbè! Devo cambiare il tratto! È grazie della richiesta dell'Unione del servizio di riparazione! Il tecnico di riparazione arriverà venerdì alle 3 e 50! Ok! Fra poco! Perfetto! Intanto visto che hai fame vediamo se c'è qualcosa nel frigorifero! Apri! Un pezzo di torta al cioccolato hai! No! Ho sbagliato! Non metti nell'inventario ma apri e mangio la fetta di torta! Vediamo se arriva il tecnico! Eccolo qua! Finalmente! Poverina! Lei è tra l'altro molto a disagio! Entra in un nuovo club! Sì! Perché lei! Ho scelto per lei leader della comitiva! Infatti deve creare o entrare in un club! E deve comprare un vantaggio del club! Al momento lei non ha un lavoro! Pensavo di farglielo trovare una volta partorito! Una volta che ha partorito! Però con Tommy non sta andando affatto bene! Quindi poi magari Tommy lo facciamo tornare un attimo a casa dei genitori! Quindi Tommy poi vieni qua e fai! Aiuto a recuperare una stretta di mano segreta altre scelte amichevole! Cerca di chiacchierare! Vediamo! Magari svegliati adesso! Chiedi di sentire il neonato! Ok! Non vanno assolutamente d'accordo! Quindi... Visto che non vanno assolutamente d'accordo! Io direi di far tornare Tommy a casa dalla sua famiglia per qualche giorno! Vediamo se si calmano un pochettino le acque! E poi magari quando sarà nato il bambino lo faremo tornare qui a casa con Emily! Quindi a questo punto direi di far trasferire Tommy di nuovo con la sua famiglia! Quindi trasferiamo Tommy a Winterburg! Vediamo... Sì! Esatto! E lo facciamo tornare insieme alla sua famiglia per un po'! Quindi fatto questo direi di andare a Winterburg e di andare nell'appartamento di Leonardo per farlo passare a dieta! Ed eccoci finalmente a casa nell'appartamento di Leonardo! Direi cucina e prepara torta al cioccolato! Poi magari potremmo invitare nell'otto anche... Invita nell'otto attuale! Emma! Ok! Luce automatica, tutte le luci! Direi che è un pochettino teso il ragazzo! Fai un tuffo bomba in piscina, condividi le tue insicurezze e flerta con qualcuno! Vediamo se... Mmm... Si è arrivata... Emma se viene? No! Non c'è! E... Ora Emma ha da fare! Ok! Non può venire! No! Peccato! Quindi direi... Aggiungi le candeline! E poi proviamo a chiederle di nuovo se può venire! Ah! Perché probabilmente è a scuola! Invita nell'otto attuale! Mi sa proprio di sì che è a scuola lei! No! Ma perché ti sei preso la fetta? No! Adesso così dobbiamo rifare tutto! Niente! Rifacciamo un'altra torta! Cucina! Di nuovo torta al cioccolato! Mi sa proprio che Emma in questo momento è a scuola! Esatto! Niente! Festeggeremo da soli da soli! Poi devi anche andare in bagno! Quindi... Ok! Andiamo! Ok! Intanto che vai in bagno aggiungi le candeline dopo! Ha bussato qualcuno alla porta e il quartiere ti da il benvenuto! Quindi... Invita i vicini a entrare! Così magari qualcuno festeggerà il compleanno e insieme a lui non sarà solo! Ah! C'è anche Mark tra l'altro! Bene dai! Ok! Andiamo a fare entrare tutti i vicini che ci danno il benvenuto! Poi magari sfughiamoci un po' Ringrazio per la presenza prima di tutto! E poi facciamo lamentati dei problemi con Mark visto che un po' lo conosci! E poi direi festeggia, esprime un desiderio e soffia sulle candeline! Lamentati della vita sentimentale, impara a conoscere e facciamo discuti dei cambi nel quartiere! Leonardo ha scoperto i seguenti tratti di Mark ordinato! E sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare! Leonardo è passato di età, l'età adulta! Bene! Quindi a questo punto direi chi ama tavola! E' ancora un po' teso in realtà! Lui flerta con qualcuno e condividi le tue insicurezze! E facciamo ringrazio per la presenza e poi sfogati! Magari venite qui, vai qui e lamentati dei problemi, ringrazio per la presenza e facciamo presentazione divertente! Comitato di benvenuto, il quartiere ti dà il benvenuto, gli abitanti verranno a farti visita, a conoscerti e magari ti porteranno una torta alla frutta! Non sentirti sotto pressione, familiarizza con gli altri, goriti la compagnia! Trova un fidanzato fatto, vai a due appuntamenti, potremmo magari farlo con Emma in vita nell'otto attuale, vediamo se adesso può venire! Eccola qua! No, si è addormentato ed è arrivata Emma! No, vabbè! Eccola qua! E facciamo... Condividi le tue insicurezze! Eccola che è arrivata! Poi facciamo abbraccio affettuosamente e altre scelte amichevole, chiedi della sua giornata! E poi facciamo altre scelte amichevole a braccia! Prepara visita e fagioli, però sei un po' stanco, giusto? Sì, quindi vai a dormire un attimo, devi recuperare le forze mentre tutti i vicini sono qui a casa! No, vabbè, grazie Emma che stai pulendo tutto per me! Che brava, che brava donna di casa! Poi Emma la faremo trasferire se la loro relazione va bene in questo appartamento! Prepariamo un'altra torta, cucina, torta bianca stavolta! E così facciamo soffiare sulle candeline ad Emma! Ma lei sta riordinando tutta la casa, che brava! Magari chiacchieriamo ancora un pochettino e abbraccio affettuosamente! Bene, credo che sia ora di andare, ci vediamo e grazie dell'ospitalità! Grazie a voi! E' ancora molto teso per il senso di insicurezza e per il tratto geloso, perché lui è molto geloso con Jesse e con... Continua a sbagliare i nomi! E con Emma, c'è stato un po' troppo poco in questi episodi! Sfogati, racconta una storia sensazionale, impara a conoscere... Bene, adesso è soddisfatto, meno male! Fiducioso! Mi appartieni, non temere, il partner di Leonardo è vicino! Ok! La torta è pronta? Quasi pronta! Perfetto, mettiamo subito le candeline per festeggiare! Aggiungi le candeline! Ok, adesso facciamo altre scelte! Fai passare di età il sim Emma! Che se n'è andata? Ah no, eccola qua! Perfetto! Ed eccola qua! Emma è diventata una giovane adulta! Leonardo è andato a dormire ma ha lasciato qua da sola Emma, quindi proviamo a fare una cosa! Alzati! Offri una rosa! Bacio a qualcuno! Invita a restare per la notte! Si dai, ci sta visto che sono le nove e mezza di sera ormai! Qui si presenta in accappatoio e pantofole! Bacio appassionato! E poi facciamo... Fai fichi fichi con Emma! Perfetto! Perfetto! Stanno dormendo tutti e due, quindi fatto questo direi di tornare da Emily e vedere che punto è la sua gravidanza! Sono appena arrivata nell'appartamento di Emily e guardate qua cos'è arrivato! Ci siamo persi la nascita di Francesco, è arrivato un maschietto, Emily aspettava un bambino, è nato un maschietto che si chiama Francesco, non me l'ha generato da solo il gioco perché è appunto nato mentre noi stavamo giocando con Leonardo ed Emma. Quindi nulla, facciamo una cosa, parla, nutri, cambia il pannolino, facciamo un po' di cose, coccola e poi direi, proviamo eh, lei è a disagio ambiente brutto, ok perché è un po' sporco, effettivamente si hai ragione! E volevo provare a invitare, a parte che è abbastanza tardi, quindi facciamo una cosa, dormi e poi domani mattina invitiamo Tommy qui in appartamento per fargli conoscere il suo bambino perché in realtà ha perso anche la nascita, il parto, non è riuscito ad assistere. Continua a piangere poverino, ok, bene sta dormendo quindi vai a letto anche tu, io vorrei far vedere Francesco a Tommy, quindi facciamo una cosa. Invita nell'otto attuale e invitiamo Tommaso. C'è il piccolo che sta piangendo. Cambia il pannolino sporco. Tommaso preferirebbe non venire. Ok, va bene. Vieni qua a cambiare il pannolino. E poi facciamo calma. Visto che Tommy non se l'ha sentita di venire perché ancora non va molto d'accordo con Emily, direi di chiudere l'episodio andando a sistemare un'altra stanza nella casa di Jessica. Ed eccoci qua. Direi di andare a sistemare questa stanza. In realtà sembrano due stanze ma è una stanza unica. Da una parte abbiamo la camera di Emma e dall'altra la camera di Sofia. Io andrei a togliere tutto visto che la... In questo modo. Visto che la camera di Emma pensavo di farla nell'appartamentino che ho creato di qua. Quindi questa la dedicherei tutta completamente a Sofia. E magari potrei... Possiamo fare una stanza. Magari una finestra mettiamola qui e una qui. Ok. Magari potrei fare un piccolo angolino per Tommy visto che è tornato a vivere qui. Direi il pavimento. Questo mi piace. Quindi. Facciamo così. Perfetto. Mentre alle pareti mettiamo... Mettiamo, mettiamo... Questo giallo. Quindi... Ah che belli questi con le stelline, i fiorellini. Così. Togliamo l'albero. Togliamo le luci. Una e una due. Recuperiamo queste. Che sono, lo sapete ormai, le mie preferite. Ne mettiamo una. E due. Perfetto. Quindi. Si entra. E abbiamo. Da questa parte magari mettiamo la camera. Il letto. Quindi. Ok. Come lettino possiamo mettere... Ah, ho soltanto questo? Sì. Questo oppure questo? Questo oppure questo? No, preferisco questo qui. E lo mettiamo... Questo azzurro. Qui. Poi mettiamo la scrivania. Scrittoio per adolescenti. Che bello questo. Magari. Gialla. Oppure lilla. Anche così bianco con questi fiori. Anche così bianco con questi fiori. Quindi la preferisco. Quindi la preferisco. Come tappeto possiamo mettere... Che bello anche questo. Tipo i piedi del letto. Così. E se invece il letto lo mettiamo... Qua. Sì, forse lo preferisco. Ok. Poi mettiamo... Mettiamo... Qualche giocattolo. Visto che comunque è una stanza da bambina. E mettiamo l'orsetto. Che bellino questo con il cuore giallo in mano. Bellissimo. Ok. Poi mettiamo un comodino. E mettiamo... Questo è un po' grande. Questo è proprio da bimba però. Sì, è decisamente un po' troppo da bimba. Lo proviamo però. Così. Il letto lo spostiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Così. L'orsetto lo mettiamo da questa parte. Oppure potrebbe stare bene anche... Qua sopra. E questo altrimenti vediamo. Azzurro, azzurro e rosa. Tutto rosa. Che bello. Questo ci potrebbe stare. Magari facciamolo. Grigio, bianco. Sì dai, meglio questo. Ci sta meglio. Ok, quindi... Il tappeto lo portiamo di qua. Così. Potremmo mettere una bajour qua se la troviamo. Oppure molto bella è anche questo donut. Dai mettiamo questo. Che ci sta molto bene. Ok, poi... Poi... Qualche decorazione da parete. Vediamo cosa abbiamo. No, non mi piace. Metiamo qualche quadro. Tipo... Uno... E due, così. Poi, una scrivania con un computer. Magari comunque per fare i compiti. Quindi, scrivania. Vediamo cosa abbiamo di carino. Banco per bambini. Scrittoio sapiente della Bimbo Prodotti. Sì, questo non è male. Questo magari lo mettiamo... Qui sotto la finestra. Mettiamo una sedia. Vediamo un po'. Tipo... Questa. Ok, mettiamo qualche decorazione. Come ad esempio... Abbiamo... Spazzolini? No. Questa borsina. Carina. Mettiamola qui. Poi mettiamo questi libri. Tipo mettiamoli... Ok, qua. E poi mettiamo... Vediamo... Vediamo se c'è qualcos'altro... Ed interessante o no. Allora, andiamo nello studio. Prendiamo un computer. Mettiamo... Questo per lei. E poi mettiamo... E poi mettiamo... Mettiamo una libreria. Visto che comunque la stanza è molto grande. Poi qua infiliamo velocissimamente, momentaneamente, il letto per Tommy. Una libreria e mettiamo... Vediamo... Vediamo se come colori questa può stare bene. Forse è un po' troppo... Un po' troppo scura. Mettiamola sì tutta bianca, sta meglio. Ne mettiamo due. Perfetto. E poi... Infiliamo velocissimamente il letto di Tommy. E mettiamo sempre, direi, un letto singolo. No, questo mi sembra più da ragazza. Vediamo... Questo. Per Tommy. E magari prendiamo un tappeto anche per lui. Mettiamolo sempre qui. Però direi di cambiare il colore decisamente. E facciamolo. Così. Ok. Quindi dai, la camera di Sofia l'abbiamo fatta. Togliamo queste luci. Una e una due. Ok. Magari mettiamo un poster. Qualcosa di più maschile. Per Tommy. Tipo... Una band. E mettiamo qualcosa anche qui per Sofia. Tipo questa cantante. E anche... Questo. Ci sta, dai. Questo magari spostiamolo più centrato. Anche se forse è sto che lo vedo bene. Non mi piace molto. Però... Dai, lasciamo così. Ok. Quindi abbiamo sistemato anche la cameretta di Sofia. Ha la sua scrivoglia per fare i compiti. Per scrivere al computer. Per esercitarsi. Abbiamo messo anche il letto per Tommy. Che resterà, spero, non per tantissimo tempo. Poi l'ultima stanza che ci mancherà da fare sarà questa. Che non so sinceramente cosa fare. Quindi magari fatemi sapere qua sotto nei commenti. Cosa secondo voi starebbe bene in questa stanza. Inizialmente c'era, come potete vedere, una cucina. Però non mi interessa. Quindi vorrei farci dentro qualcos'altro. Poi beh, qui abbiamo la piscina. E qui invece volevo fare l'appartamentino in loft di Peremma. Peremma. Nulla ragazzi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è stato così come sempre vi invito a mettere un bel pollice in su. E ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. E mi raccomando lasciate qua sotto nei commenti quello che vorreste vedere nel prossimo episodio. Vi mando un grandissimo bacione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! Ciao!